musica ciao ciao youtube non ti conosco conosco Giovanni però ti saluto uguale ciao youtube allora ci troviamo a bordo piscina del B&B Le Chianche per il compleanno tuo Giovanni per il compleanno di Giovanni proprio per questo volevo ringraziarti intanto per l'invito e poi volevo farti i nostri sinceri auguri a te Giovanni per i tuoi 18 anni ciao youtube ci conosceremo ciao youtube youtube noi ci troviamo ci troviamo alle bianche sempre lo stesso compleanno di Giovanni sempre lo stesso sempre 18 anni e non c'è chi rischia auguri Giovanni ciao 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 Giovanni auguri ciao 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 Sia quello rosso che quello bianco soprattutto, no, la nonna l'ha comprato, brava la nonna per il suo bianco, brava la nonna per il suo bianco, brava la nonna, brava il vino, brava il vino. E' un canale che è evaporato questo, dai. E' nata così per canto, ma penso che sia una bella scoperta e un mondo tavoloso, è il nuovo pari giovani, quindi spero che sia all'inizio di un futuro internetoso. Aspetta, camera, ciao, ciao mamma, quella che senza il tempo, ok, vai, allora dove ci troviamo, considerazioni? Siamo qui al compagno di Giovanni, è un'ottima location, il cibo, aspettate, prego, prego, prego. Ah è arrivata Francesca, Francesca, Francesca. Siamo qui al compagno di Giovanni, sei così felice, dai. Comparticipa. L'ultima arrivata parla per tutti. Aspetta. L'ultima arrivata parla per tutti, dai. Ripetiamo. C'è questo canale, è proprio... Lo birro su tutti i trasri. La birra è buona. La birra è buona. La compagnia anche, lo festeggiato, non so, c'è cosa stai. Quindi si pazzo. Sinceramente a me mi hanno chiamato con un scarfo la sede. Ancora non l'hai chiamato così. Scusa. Quindi si pazzo, a Giovanni. Che oggi va, che oggi va. Che oggi va. Prontesto. Ciao. Allora, considerazione sulla festa. Ecco. Una bella festa. Una bella festa. L'abbiamo mangiato bene. È bellissima, c'è l'acqua. C'è l'acqua. Poi c'è il mangiare, poi c'è l'acqua. Poi c'è l'acqua, c'è la piscina, c'è l'acqua. Vediamo tanti. C'è Giovanni. Purtroppo c'è anche Giovanni. C'è anche Giovanni. Poi c'è la piscina, siamo ancora dentro c'è l'acqua. Ai prossimi 18 anni non ti... Allora, ti puoi spiegare come va a arrivare. Ma novi, 36 anni. Ci sono del 18esco. Ho messo una festa, una alla volta. Pia, la bella festa. Festa. Che bella. Se non è bella. Se ti è piaciuto clicca la ecco. Qui c'è il kick-paw, ma... Se ti è piaciuto clicca su kick-paw. Gli iscrivete su... Gli iscrivete su... Gli iscrivete su... Gli iscrivete su... Che c'è il kick-paw! Ehi troppo... Ok ceni sono... Gli iscrivete su... Ai troppo... Se è libera. 3! 2! Gli iscrivete si... Agoli Grazie! io abbraccierei adesso i tuoi amici